Sono stati i colpi sferrati al collo a togliere la vita all'oncologa Esther Pasqualoni mercoledì scorso quando nel pomeriggio, finito il turno di lavoro, è stata raggiunta nel parcheggio dell'ospedale di Santomero dal suo persecutore, l'investigatore privato Enrico Di Luca, che con una rabbia cieca ha scagliato un numero elevatissimo difendenti al collo e al torace, la maggior parte dei quali hanno causato ferite poco profonde. Alcune di quelle al collo però hanno lacerato vasi sanguigni vitali e sono state fatali per la 53enne residente a Roseto degli Abruzzi che ha così perso la vita in una pozza di sangue. Sono i particolari che emergono dall'autopsia svolta ieri dal medico legale Silvestro Mauriello dell'Università di Tor Vergata. Colpi sferrati, altro particolare emerso dall'autopsia, con un'arma da punta e da taglio, un coltello molto robusto e non con una roncola come inizialmente ipotizzato. Il dottor Mauriello ha poi svolto il medesimo esame sul corpo di Enrico Di Luca che giovedì mattina era stato rivenuto morto in un appartamento di via Baracca a Martinsicuro. L'autopsia ha confermato la morte per asfissia generata dall'utilizzo di fascette autobloccanti. Non è da escludere che il 69enne, investigatore privato e operaio in pensione, si sia tolto la vita appena poche ore dopo il delitto, sempre mercoledì. È l'epilogo tragico di un rapporto nato più di dieci anni fa, proprio in ospedale, quando l'uomo aveva accompagnato il padre per dei controlli e aveva conosciuto da dottoressa. Un rapporto di amicizia probabilmente equivocato da Di Luca, tanto che le cose sono precipitate quando nel 2013 la donna comunicò all'investigatore di aver iniziato una nuova relazione sentimentale con un uomo. Da quel giorno Esther è diventata un'ossessione, appostamenti, pedinamenti, sms, mail che spinsero la donna a presentare un esposto al commissariato di Atri nel gennaio 2014. Nel pomeriggio i due funerali, entrambi a Teramo dove vivono l'anziana madre dell'oncologa e la sorella dell'uomo. In forma privata, quelli di Esther Pasqualoni nella chiesa della Madonna della Salute a Villa Mosca. Al cuore immacolato di Maria, quelli di Enrico Di Luca, la cui salma sarà tumulata nel cimitero di Isola del Gran Sasso. A Roseto degli Abruzzi, lutto cittadino, è in serata la fiaccolata dall'idola lucciola organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. Intanto il manager della ASL di Teramo, Roberto Fagnano, ha affermato che l'ospedale di Santo Mero sarà intitolato ad Esther Pasqualoni come riconoscimento della sua passione per il lavoro, della sua umanità e della sua professionalità. Un baluardo del Day Hospital Oncologico.